Siamo qui con il maestro Etonio di ASR Music La parte comica di ASR Music Comica tua sorella Esatto Vogliamo sapere da te Per sostituire Momo Salah Sì Vogliamo sapere per sostituire Momo Salah Che partirà in Coppa d'Africa Tu gradiresti di più Nimme Un calciatore come Che cazzo vuoi? Un calciatore come De Frel O Papu Gomez Chi? Se non so Due calciatori Diciamo di struttura fisica diversa De merda Esattamente Vabbè Quello che passa al mercato Ma eventualmente tu vi preferirei E il secondo E il secondo il Papu Gomez Perché? Che caratteristiche ha il Papu Gomez? Che ti piacciono? No Che cosa ha di meglio Rispetto a De Frel? La figa Cioè nel senso Mi vuol dire che è sposato Ad una Ad una donna La ragazza è più figa È più figa di quella di De Frel Che invece come sappiamo È È Frocio Ma non è vero Non si può dire questo Anzi Secondo me De Frel Come no? C'ha anche Secondo me De Frel C'ha anche la sciarpa De Frocio Ma no dai Ma non è possibile Comunque Voi invece De Finocchio Che cosa Ne pensate Di De Frel E Papu Gomez Perché ormai credo che si sia È una merda Si sia Focalizzata Su di loro Si sia La campagna acquisti Sicilio La campagna acquisti Quindi Campagna Eventualmente Voi Chi scegliereste Tra Papu Gomez E De Frel Ricordandovi sempre Di iscrivervi al canale Io prenderei Soleri Soleri Edoardo So Le Ri